Cos'è la guerra? Difficile dare una risposta. L'uomo è dotato della comunicazione con cui può risolvere tutti i problemi. A volte a volte vi sono dei momenti in cui gli uomini non sono d'accordo ma attraverso il dialogo e la comunicazione ci si può mettere d'accordo. La guerra è un momento in cui uno stato non riesce attraverso la diplomazia a risolvere alcuni problemi. Perché gli uomini fanno la guerra? Non è facile capire i motivi per cui degli uomini decidono di abbandonare la comunicazione per decidere di farsi guerra. Molti storici fanno iniziare le guerre con la nascita della proprietà privata. Con la rivoluzione neolitica nasce l'agricoltura, nasce l'esigenza per gli uomini sedentari di delimitare il loro territorio oggetto del proprio lavoro. Ciao al prossimo video vi aspetto Ciao al prossimo video!